A Fragolese e Barano, formazione Fragolese con Mola, Zanfardino, Varriale, Orlivieri, Barbato, Fiorillo, Pianese, Ciano, Incoronato, Manzo, Tarasce. Barano con Martucci, Righiello, Accurso, Ferrari, Monti, Trani, Arcamone, Capone, Di Costanza, Esposito, Festa. Inizia il match. Ci prova subito la Fragolese con un tiro da fuori, palla a lato. Corre a Fragolese, sponda di Incoronato, la palla resta lì, il tiro, miracoloso Martucci. Calcio d'angolo per la squadra di casa, esce a vuoto Martucci, poi la palla resta lì e se la ritrova di nuovo fra le braccia. Ancora un altro calcio d'angolo, un colpa di testa e non ci arriva Fiorillo sul secondo palo. Attacca il Barano, Contrani che è davanti alla porta ma non calcia, palla in angolo. Davanti la Fragolese con Fiorillo di testa, che sbaglia ancora, il gol del vantaggio. Punizione per la Fragolese, traversa, inizia il secondo tempo. Sempre con la Fragolese in avanti, colpo di testa, Martucci si trova lì la palla. Calcio d'angolo, il colpo di testa di Barbato, palla di poco a lato, altro cross, è Incoronato, non riesce a mettere la palla dentro. Davanti ancora la Fragolese con una rovesciata, palla fra le braccia di Martucci. Grandissimo, recupera palla di Accurso, può ripartire il Barano. Ancora Accurso, salta un uomo. Accurso, va verso l'area di rigore, rientra. Palla per Esposito, Esposito, tiro di Esposito, deviato. E il Barano è in vantaggio, clamoroso, il Barano è in vantaggio, 1-0, con la prima vera occasione. E odiamo la grandissima discesa di un Accurso inarrestabile. Esposito, con un tiro deviato, la palla va in porta. Davanti la Fragolese, spondato in Coronato. Il tiro di Pianese, alto. Lancio lungo, a vuoto Martucci, la palla resta lì, c'è un cross. Il tiro a Dicianno e la palla va in rete, 1-1. Vediamo il gol. Ancora, a Fragolese in avanti. Un altro tiro, palla deviata. Ancora un tiro di Dicianno, palla di poco a lato. Cuomo, esce in mezzo a due. Il tiro di Cuomo a giro, ci arriva Mola, palla in calcio d'angolo. Lancio lungo a Fragolese, ancora Martucci a vuoto. La palla resta lì, forse c'è un tocco di mano di Trani. Vediamo il replay. C'è il tocco col braccio di Trani, probabilmente. Era calcio di rigore. E finisce qui, a Fragolese 1, Barano 1.